in diretta con dovrebbe raggiungerci anche rosa dovremmo essere già online controllate pure voi magari allora intanto in attesa che si colleghi anche rosa rinaldi dalla redazione trasformo vogliamo ringraziare il presidente del partito della sinistra europea in spirit con noi collegato da berlino si sta collegando anche rosa eccoci allora grazie innanzitutto della disponibilità che ogni volta ci metti a disposizione e quindi il nostro ringraziamento è d'obbligo ma è anche un piacere averti qui perché sei compagno di vecchia data ti conosciamo da tanto abbiamo la fortuna di avere un tedesco che parla italiano questo non è di tutti i giorni e diciamo sei presidente del partito della sinistra europea e ma appunto essendo tedesco la prima domanda che mi viene da parti è qual è lo scenario che si apre diciamo in germania con il dopo Merkel sappiamo appunto che ci stanno candidature della sede o che stanno in corso e quindi anche i rapporti con le altre forze politiche con la sede o con alterna di fronte o ce l'hanno i verdi stessi che cosa succede in germania questa è un po' la domanda iniziale prima di tutto grazie per l'invito per quanto riguarda la situazione in germania abbiamo una situazione secondo me abbastanza interessante perché i democristiani stanno crollando secondo i sindaci hanno perso molto e adesso è la fine dell'era Merkel e adesso c'è la competizione dentro il partito democristiana per quanto riguarda il cancelliere sono due candidati Laschet che ha avuto il consenso della direzione del suo partito però dall'altro lato c'è anche Soda il primo ministro della Baviera che è più popolare rispetto a Laschet però è un diciamo così che noi abbiamo un cambiamento abbastanza notevole per quanto riguarda il panorama politico in Germania non c'è più questa diciamo stabilità politica di cui Germania è conosciuta e è chiaro in questo momento i vincitori per quanto riguarda la politica sono i verdi perché loro hanno veramente avuto un successo molto importante nelle elezioni regionale in Baden-Württemberg la regione di Stoccarda e Renania Palatinata anche e per questo sta cambiando forse ci sarà anche la possibilità di fare un governo senza i democristiani però questo non vuol dire che va direttamente alla sinistra perché ci si parla anche di una possibile possibile coalizione tra socialdemocratici verdi e liberali e però dall'altro lato si parla anche di una possibilità di una coalizione rossa rossa verde come si dice allora tra i socialdemocratici i verdi e noi la sinistra però secondo me non molto probabile però tutto sommato direi abbiamo una situazione interessante in Germania sta cambiando il panorama politico grazie Heinz do subito la parola a Franco che con me diciamo cura gli esteri ogni tanto lo inviamo nelle varie parti del mondo sempre virtualmente perché non abbiamo viaggi da offrire però lui è un grande esperto e quindi gli do a lui la parola il microfono Franco restando un attimo sulla Germania se si può chiederei anche un po' il punto sulla link perché c'è stato il congresso il nuovo della leadership e quindi un po' che che prospettive vedete vedi per per il partito nostro russidio nostro in Germania insomma in questo quadro appunto di movimento perché ci sono tanti anche una fase un po' anche di difficoltà soprattutto all'est con lo spostamento all'est ma come vedi dalla situazione? La situazione è abbastanza difficile per noi per la sinistra adesso abbiamo un nuovo leadership chiaro Susanna Hennig-Welzo e Janine Wisla e il congresso secondo me è andato molto bene perché c'è voglia di andare avanti però la situazione non è molto diciamo facile perché secondo i sondaggi siamo alle 7-8 per cento e noi vogliamo arrivare perlomeno alle 10 però è difficile però credo che noi abbiamo un ruolo importante in questa situazione politica che noi abbiamo adesso in Germania e vediamo dipende molto dalla unità del partito adesso ci sono delle discussioni e dibattite interni anche per quanto riguarda la politica della cosiddetta identità e il ruolo del partito per quanto riguarda la classe operaia eccetera c'è sempre la sfida diciamo della candidatura di Wagner che è stato eletto come diciamo leader della lista in Rhein-Westfalen è molto importante perché anche c'è qualche polemica però credo che potremmo giocare un ruolo importante in questa situazione politica che abbiamo adesso in Germania grazie Heinz passo la parola a Rosa per lei che ha anche un ruolo diciamo più istituzionale come di noi aprire lo scenario no nessun ruolo istituzionale se non come si direbbe qui da noi anzi tanto ti saluto con affetto una compagnitudine per cui stiamo insieme in questa in questa occasione e ascoltando le notizie di oggi passerei anche a una vicenda che unisce l'Europa diciamo non positivamente la questione della pandemia da da covid e diciamo così fa il mondo un po' più piccolo visto che è una situazione che fa emergere tutti i temi legati alla alle disuguaglianze alle disuguaglianze economiche e così via insomma e proprio oggi ascoltando un telegiornale e parlava della Germania delle misure che sono state prese per quanto riguarda diciamo il fare fronte al covid e c'è una situazione abbastanza simile a quella italiana per esempio per quanto riguarda le responsabilità delle regioni da noi dei lender in Germania ovvero viene alla pettine un nodo importante su in alcuni contesti in alcune situazioni come questa della pandemia si ritorna alla necessità forse di avere una direzione una politica una delle scelte che siano omogenee sul territorio questo naturalmente diciamo provoca una un qualche ragionamento un qualche problema rispetto ai tanti anni di politica delle autonomie appunto dei lender da voi e da noi dalle delle regioni infatti penso che ci siano alcune politiche da noi sicuramente come transforma le stiamo affrontando cioè di quanta disuguaglianza abbiano per esempio in Italia creato le politiche sulla salute e non solo legate ai livelli regionali tanto è vero e qui chiudo che in Italia c'è questa proposta di legge che si chiama autonomia regionale differenziata che consentirebbe alle regioni un intervento generale su tutti i temi dai contratti a quello che già c'è la salute quindi volevo chiederti siccome è una notizia di oggi eh come la state affrontando grazie Rosa un piacere di vederti ehm per quanto riguarda la situazione io credo che tu abbia ragione che la situazione che noi affrontiamo in Germania è abbastanza simile a quella italiana per quanto riguarda le regioni e i lenda perché c'è una certa polemica come affrontare la pandemia allora c'è la Merkel che vuole avere un lockdown molto forte però ci sono i lenda che vogliono avere un diciamo una politica differenziata secondo le eh condizioni che noi abbiamo nelle regioni e adesso c'è ehm c'è in preparazione anche diciamo una lecce che dà più eh competenze al allo Stato nazionale diciamo così eh però c'è anche una certa contestazione da parte dei lenda che vogliono avere un ruolo più importante eh fino adesso c'è direi eh una una politica non molto bene coordinata e la gente è molto eh arrabbiata per quanto riguarda le misure perché non c'è una prospettiva chiara io credo che tanta gente sarebbe eh d'accordo con un diciamo con delle misure più rigorose però dall'altro lato vogliono avere una prospettiva questa prospettiva non c'è c'è una politica da un giorno dall'altro e vediamo e questo è un grande problema è chiaro che adesso è in difficoltà il il federalismo eh tedesco che normalmente è stato è sempre visto come un vantaggio e secondo me è però eh con questa diciamo confusione eh come affrontare la pandemia ci sono grandi problemi grazie Heinz si è unito anche Roberto Musacchio eh ringrazio salutare il mio segretario Roberto ti saluto va bene e allora io eh comincerei appunto diciamo lo scenario europeo secondo secondo te com'è l'Europa eh nel suo complesso sta affrontando la situazione della della pandemia come eh insomma il deficit di dei vaccini il deficit del dell'impostazione con cui è stata assunta la mancanza di una visione di come uscire dall'Europa e diciamo a livello europeo diciamo da questa crisi mi sembra evidente volevo sapere da te che cosa pensi e che cosa eh anche come come partito eh stiamo promuovendo eh come alternativa a questa confusione grazie Roberto io credo che adesso l'Unione Europea non fa bella figura eh abbiamo veramente un anche una confusione per quanto riguarda per esempio i vaccini eh non c'è una politica o coordinata eh e anche Van der Leyen fa un non fa bella figura in questa situazione e noi avremmo bisogno di una politica più coordinata io credo anche che anche Europa ha anche una responsabilità per quanto riguarda la situazione globale perché adesso eh viene fuori che per esempio in Africa mancano i vaccini e credo che noi come europea abbiamo anche una responsabilità eh per il per il mondo e per il mondo però per quanto riguarda la situazione europea credo che eh questa situazione dovrebbe essere l'occasione di eh cambiare veramente con la politica europea eh per ehm compattere la pandemia sono stati sospesi alcuni elementi di quella politica neoliberalista eh fino adesso perseguita dalla Commissione europea come per esempio la sospensione del patto di di crescita di stabilità credo che questo è stata una cosa eh molto importante però loro vogliono soltanto sospendere questo 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 patto noi diciamo che si deve abolire questo cancellare questo 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 patto credo che si deve fare alla finita far la finita con la politica di austerità neoliberale in Europa sarebbe l'occasione perché adesso viene fuori che noi abbiamo bisogno di interventi pubblici per quanto riguarda eh la situazione che noi affrontiamo con eh la pandemia che c'è dappertutto e per questo credo che ci vogliono eh abbiamo bisogno non solo una politica più coordinata però però anche una politica eh diversa rispetto al passato e noi come sinistra europea lavoriamo in questa direzione noi abbiamo come voi sicuramente sapete ehm elaborato una piattaforma come uscire socialmente dalla crisi vuol dire la protezione del 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 pop della popolazione questa è la prima cosa naturalmente eh si vede molto bene che eh la il sistema sanitario non è in grado di affrontare giustamente questo correttamente questa crisi eh e però ci voglia anche un'altra politica economica adesso c'è eh la polemica per quanto riguarda il recovery fund il io so che eh proprio anche in Italia c'è molta ehm molto molta discussione per quanto riguarda l'implementazione di questo recovery fund eh questi soldi però credo che eh adesso come viene trattato l'europea non è molto giusto si deve fare di più però ehm noi come sinistra europea vogliamo avere una un cambiamento radicale della politica europea credo che questo eh adesso la situazione vera eh ci dà la eh a noi la possibilità so benissimo che è molto difficile la situazione per la sinistra d'Europa però eh questa situazione che affrontiamo ci offre anche una possibilità per promuovere una una un il necessario cambiamento della politica europea grazie Heinz come sai noi siamo impegnati anche eh nella raccolta firme eh della raccolta diciamo di un milione di firme per lì c'è l'iniziativa di cittadinanza europea per chiedere diciamo la sospensione dei brevetti e e io credo che questa iniziativa molto importante è importantissima esatto e noi in Italia eh proprio come dici tu abbiamo usato questa opportunità per parlare alle persone per raccogliere anche un sentimento popolare che di fronte all'incapacità dell'Europa di offrire appunto i vaccini lo scandalo dei dei contratti segretati del rapporto del del mancato rispetto anche degli accordi fatti con le case farmaceutiche insomma ci impone un po' di prendere la parola e di promuovere questa iniziativa anche a livello europeo purtroppo noi vediamo una difficoltà mentre noi siamo un po' con delle cifre relativamente alte alte negli altri paesi invece ancora eh stenta questa eh questa raccolta questa mobilitazione diciamo per avere eh questa questa raccolta allora volevo sapere da te se diciamo a livello di partito a livello visto che tu poi dopo sei in contatto con tanti partiti eh della sinistra in Europa se eh se eh pensi che eh si possa avere questo scatto diciamo da qui a a novembre dicembre quando poi è stato anche prolungato il termine quindi possiamo lavorare un po' più a lungo però avere un una mobilizzazione su questa cosa qui a livello europeo? è purtroppo abbastanza difficile so benissimo che in Italia eh la situazione per quanto riguarda questa iniziativa va molto bene invece nel mio paese in Germania non va molto bene però abbiamo fatto alcuni eventi alcuni eh alcune attività assieme con i eh compagni francesi e francesi alla frontiera per promuovere questa iniziativa è stato secondo me una un atto molto positivo però dobbiamo fare di più e per questo abbiamo fatto un appello anche a tutti i partiti che sono membri o membri osservatori della sinistra europea di fare di più per quanto riguarda questa iniziativa credo che sia molto importante ci offre una possibilità per fare un'altra politica per credo che sia molto eh importante avere accesso libero al ai vaccini e qualcosa contro eh i eh grandi gruppi farmaceutici e per questo credo che queste iniziative deve essere sostenuto di più dai partiti che sono membri de della sinistra europea abbiamo fatto questo appello appello e stiamo continuando di fare questo appello perché nel prossimo eh nella prossima riunione dell'esecutivo della sinistra europea che il ventiquattore di aprile ehm andiamo a discutere ancora una volta questa iniziativa. Grazie. La parola non so se Roberto. Sì un attimo perché volevo se posso continuare questo tema chiedo scusa eh Heinze io peraltro sono anche dentro la riunione del forum di Marsiglia quindi sono appena intervenuto lì ma ci tenevo a a stare anche qui contento insomma eh e e volevo seguire questa questione dei vaccini che tu hai posto quando dici cambiare politica no? Noi abbiamo avuto Romano Prodi che tu conosci bene che qualche giorno fa ha scritto un articolo dicendo beh questa Unione Europea non controlla la catena del valore ora cerchiamo di capire che cos'è questa catena del valore sostanzialmente non controlla che cosa succede nella produzione nella distribuzione dei vaccini abbiamo visto che il Consiglio Europeo ha dedicato proprio alla catena del valore riferita ai vaccini un pezzo del suo scritto finale affidandosi nuovamente eh alla possibilità che il mercato regoli questa catena del valore dicendo che bisogna essere proporzionali e reciproci eh dentro gli scambi commerciali che sostanzialmente l'Unione Europea eh si ripropone come un luogo in cui il commercio in particolare il commercio per le esportazioni purtroppo perché non è l'Italia è un forte esportatore di materiali farmaceutici so è centrale ecco quando tu dici cambiare ti pongo la domanda significa anche recuperare il controllo di questa catena del valore questa storia dei vaccini è veramente clamorosa anche rispetto che so io alla alla questione della Brexit rispetto agli Stati Uniti noi eh siamo in una difficoltà enorme che cosa significa cambiare per recuperare il controllo del valore che poi in questo caso è un valore di utilità di vita e di morte per i cittadini allora io credo veramente che in Europa c'è molta confusione per quanto riguarda i vaccini noi non abbiamo una diciamo trasparenza eh per quanto riguarda i contratti questo è la prima cosa e dobbiamo avere la trasparenza anche per quanto riguarda i eh i contratti con i grandi gruppi e tu hai ragione che eh noi dobbiamo avere il controllo per quanto riguarda la catena del valore e questo non è molto chiaro per questo chiediamo che eh eh c'è un libero accesso alle licenze credo che questo sarebbe molto importante di averlo perché abbiamo sicuramente dappertutto le capacità tecnologiche per produrre questi questi vaccini e per questo ci vuole veramente un diciamo eh un passo coraggioso per eh cambiare questa politica per questo vuol dire che noi dobbiamo fare pressione sui sui gruppi sui gruppi grandi mamagetici e per per questo credo che veramente eh questa iniziativa sarebbe un'occasione di farlo perché eh la situazione che adesso abbiamo eh con i vaccini è insopportabile grazie Heinz eh gli do la parola a Franco sì io ho portato un po' questo interrogativo eh anche un po' vasto però sì ma cerco di sintetizzarlo eh noi abbiamo avuto dopo il duemila e quindici diciamo dopo lo scontro tra la Grecia e il Tittas e l'Europa in cui la Grecia poi ha dovuto come dire fare per rapporti di forza eh fare dei passi indietro una tendenza mi sembra nella sinistra alternativa a considerare irriformabile eh l'Europa e quindi anche a cercare eh altre prospettive altre soluzioni anche a livello eh nazionale. Eh ora in questa situazione eh c'è mi sembra sia fatto una sorta di riformismo dall'alto dentro l'Unione Europea che sicuramente non è il nostro ma abbiamo visto eh senza cambiare i trattati la BCE ha cambiato completamente eh politica. Adesso con molte contraddizioni esempio leggevo oggi la Francia eh quando assumerà la presidenza dell'Unione eh porrà all'ordine del giorno eh la modifica di quei famosi parametri eh del tre per cento del debito del sessanta per cento del debito del tre per cento del deficit per andare a soluzioni diverse. Allora in questa situazione in cui nonostante eh le difficoltà dell'Unione a gestire la vicenda vaccini mi pare non ci sia più quella spinta a dire vabbè ognuno fa per sé. Ogni stato fa per conto suo che c'era anche a sinistra anche legittimamente. Ecco c'è un tornare a porsi eh di modo più forte a sinistra il terreno della vuol dire della lotta politica a livello europeo e quindi anche una proposta più articolata di come debba cambiare l'Unione oltre alle politiche economiche che tu già dicevi? è una questione, una domanda molto interessante perché va nel merito a delle cose perché sai che dentro la sinistra c'è eh sempre una politica per quanto riguarda eh la riforma possibile o no dell'Unione europea. Eh secondo me questa è una questione molto astratta. Eh secondo me si deve parlare come eh aprire un processo politico per cambiare questa questa politica europea. È molto chiaro secondo me che le trattative di Marti e di Lisbona non permettono una costruzione in Europa che vogliamo però adesso si vede molto bene che anche su questo a questa base di queste trattative alcuni cambiamenti sono possibili per esempio come la sospensione della del patto della stabilità e di crescita e ci saranno altre e per questo credo che noi dobbiamo rafforzare intensificare il nostro dibattito quali sarebbero i processi politici per cambiare la politica europea. credo che questo è veramente la questione eh diciamo gusciale eh diciamo così una riflessione astratta se sia possibile eh rifamare Europa o no non va da nessuna parte secondo me e per questo dobbiamo concentrarsi sui possibili processi eh politici. Adesso la situazione come ci ha detto già detto all'inizio questa situazione che noi affrontiamo con la con la pandemia e come affrontare la pandemia ci offre la possibilità per promuovere un'altra politica europea. Credo che noi dobbiamo lavorare in questa direzione dobbiamo anche cooperare con altre diciamo forze di sinistra e anche forze ecologiche. Abbiamo questo foro europeo che ci offre la possibilità di avere una piattaforma per un dialogo politico con altri eh forze progresiste e anche con i verdi. Eh noi credo che dobbiamo andare in questa direzione grazie a dare la parola a Rosa per fare continuare il giro diciamo il microfono Rosa grazie no molto brevemente eh perché sono d'accordo con questo tuo intervento e anche con le altre cose che ti hai detto prima e io penso che eh questa pandemia le cose non le lascia come prima. Il punto è che questo significa anche che è in atto una sfida anche non dichiarata perché è evidente che diciamo ci sarà il tentativo no di far pagare a qualcuno comunque eh i costi di una crisi che è sociale come è del tutto evidente ed è anche una crisi di sistema. Io sono d'accordo che è un po' una sciocchezza la rinformabilità o meno dell'Europa. È una sciocchezza perché evita di discutere del merito no? E quindi oggi noi io sento che c'è una sfida in campo perché con Roberto Musacchio, con Roberto, con Transford discutiamo spesso del come per esempio eh l'Europa si è arretrata rispetto alla situazione dei vaccini per esempio no? Alla vaccinazione delle persone rispetto a paesi che non fan parte della comunità europea. E allora se alcuni elementi come tu ci dicevi sono andati in crisi, vengono messi in discussione senza dover cambiare i trattati perché lo impone la questione sociale no? Che è che è precipitata eh il punto eh adesso è se tu sei il presidente della della sinistra europea, noi diciamo siamo tra coloro che la vogliono allargare, farla insediare anche un po' di più nei diversi paesi, se noi come sinistra europea accogliamo ehm questa occasione perché non si ritorni a prima ma perché la pandemia determina un cambiamento positivo per i popoli d'Europa. Voglio dire eh che la questione dei 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 contratti, della segretezza, dei trattati di commercio di cui mi sono occupata per un po' dal titip al CETA eccetera. Noi dobbiamo cogliere questa occasione per imporre in qualche modo un cambiamento e quindi questo sfida anche noi come sinistra europea se saremo capaci di un qualche elemento di cambiamento in avanti piuttosto che di arretramento perché anche è possibile che si scateni una guerra tra chi ha meno cose possibili se non siamo portatori di un'altra politica. No io sono molto d'accordo con te eh credo che la questione grande è chi paga per la crisi eh adesso abbiamo abbiamo una situazione in cui eh dobbiamo chiedere che sono i ricchi devono pagare per la crisi però fino adesso non è così però dall'altro lato le sta le cose stanno cambiando e per questo credo che sia una possibilità di cambiare però per la sinistra europea la grande sfida è di essere più visibile nella politica europea questa è la grande sfida per noi perché fino adesso quasi nessuno conosce la sinistra europea eh e per questo dobbiamo diventare più visibili e credo che eh ci sono delle opportunità eh per esempio il vertice sociale eh il 6-7 maggio a Porto credo che questo eh social summit eh ci offre anche una possibilità per la sinistra di essere più visibile anche eh eh la conferenza eh sul futuro dell'Europa ci offre una possibilità so benissimo che eh loro che hanno iniziato questa conferenza non vogliono cambiare la la politica però dall'altro lato secondo me sarebbe una occasione da non perdere per far più visibile la visione della sinistra per quanto riguarda il futuro dell'Europa e per questo credo che ci ci siano delle possibilità dobbiamo cogliere queste possibilità perché fino adesso noi eh come sinistra europea non abbiamo un gran impatto per quanto riguarda la politica europea e per questo credo che noi dobbiamo anche intensificare ehm eh la cooperazione per esempio anche con il nostro gruppo parlamentare nel Parlamento europeo e credo eh proprio che noi eh come sinistra europea dobbiamo eh veramente avere una cooperazione molto eh stretta eh con transform perché transform per 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 noi è anche un diciamo un think tank eh vuol dire che ci vuole anche un'analisi corretta della situazione eh per come base per le conseguenze politiche. Ti ringrazio anche a nome di Transform Europe che modestamente questa sede rappresentiamo. penso insomma insomma che non verrà mai meno il nostro supporto il nostro apporto in termini di analisi e di 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 analisi di contesto e di proposte di alternative che sono già diciamo possibili. Uno degli aspetti eh fondamentali eh della politica dei nostri tempi eh sono i mass media un'opinione pubblica eh veramente europea non esiste. Esistono varie diciamo posizioni ma fanno tutte riferimento diciamo all'ambito nazionale. Eh noi come Transform Italia abbiamo promosso un'iniziativa proprio il 7 maggio eh in occasione appunto del Social Summit ma anche della giornata dell'Europa che è il 9 e e dell'apertura del processo come dici tu del futuro dell'Europa con diverse testate giornalistiche che fanno riferimento alle sinistre in Europa. Ecco io credo non so se vuole sapere anche te che ne pensi noi stiamo lavorando proprio perché ci sia eh diciamo la capacità anche della sinistra di creare una forte opinione pubblica eh e per questo servono anche gli strumenti mediatici da contrapporre all'immensa eh mole eh di potere di egemonia culturale che produce diciamo il mainstream e e tutte le televisioni nel mondo di media. Allora eh com'è possibile eh rendere evidente che una un'opinione che pure c'è tra le persone tra tra i tanti diciamo non solo militanti ma tra le persone comuni del fatto che ci sia bisogno eh di appunto di una un'altra Europa. Pensi che questo lavoro eh sia utile possa come possiamo svilupparlo? Questo è una grande sfida secondo me da che non c'è dubbio che abbiamo bisogno di un'opinione pubblica da parte della sinistra. Ne abbiamo già parlato anche l'anno scorso durante la festa di liberazione ehm a Firenze eh adesso so che eh che sono informato su questa iniziativa e avete avuto anche un incontro con ehm il responsabile della comunicazione della sinistra europea eh no io sono d'accordo eh credo che sia una iniziativa molto importante però direi anche molto difficile perché hai ragione i mass media giocano un ruolo molto importante per quanto per quanto riguarda la politica in generale e per questo credo di eh questa iniziativa di ehm creare un'opinione pubblica da parte della sinistra è veramente una 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 iniziativa molto buona però veramente credo anche una sfida grande. Grazie. Non so se ci sono altre domande. No continuo un attimo io su questa cosa delle cose che stiamo facendo non so se gliele gliele avete chiesto prima insieme all'opinione pubblica proviamo anche a ricostruire un po' di coalizione del lavoro l'abbiamo chiamata così e non so se hai avuto l'occasione di vedere il lavoro che abbiamo fatto come Transforming Europe provando a dare la parola ad alcune lavoratrici e lavoratori eh europei hanno fatto un lavoro molto buono questi ricercatori e e quindi abbiamo questo materiale che vorremmo anche presentare all'insieme del partito della sinistra europea oltre che al GUE e che peraltro diventerà oltre a essere pubblicato sul sito di Transform nella sua forma integrale in inglese anche un libro che pubblicheremo invece in modo sintetico su left cercando di collegare precisamente questo la voce dei lavoratori e l'opinione pubblica insomma credo che Roberto te l'abbia mandato spero che tu lo possa vedere perché i ragazzi giovani ricercatori sono stati molto bravi sì sì l'ho visto e sto eh scrivendo un articolo eh per left per quanto riguarda questa ricerca io devo dire che per quanto riguarda questa ricerca interessante sono tre paesi la Germania la Francia e Italia eh nonostante le le differenze socio economiche tra i diversi paesi e diciamo i risultati per quanto riguarda le condizioni di vita e di lavoro del lavoratore è abbastanza simile eh quello che mi eh dirlo per dirlo francamente quello che mi ha colpito è stato il fatto che ovviamente i sindacati non c'entrano questo è un grande problema in questa ricerca secondo me non è il problema della ricerca è il problema della realtà e si dice nella ricerca che i lavoratori sentano sempre diciamo così una hanno una sensibilità di solidarietà per quanto riguarda diciamo il lavoro però con i sindacati non hanno non hanno molto a che fare quello che sono stato intervistato e questo mi ha colpito un po' come vecchio sindicalista eh mi è colpito molto questa questo fatto perché però questa ricerca è interessante e dobbiamo secondo me eh dobbiamo prendere anche di questi diciamo vertici questo social summit per mettere diciamo nel centro anche i diritti sociali e in particolare eh per quanto riguarda le condizioni di lavoro e credo che questo sia un terreno molto importante per noi e questa ricerca che sicuramente ci dà eh delle diciamo eh delle informazioni molto interessanti per quanto riguarda questo e sicuramente eh 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 andiamo a eh affrontare questa ricerca anche nella sinistra europea anche assieme al eh la QNGL non esiste più c'è adesso il gruppo left il gruppo ehm della sinistra dentro il parlamento europeo finalmente eh eh va bene allora affrontiamo questa cosa. Grazie. Grazie. Grazie Heinz. L'ultima diciamo domanda ma insomma so che rispondo una porta aperta sai che l'Italia sarà eh diciamo l'ospite per quanto riguarda il G20. Noi eh so che anche il partito della sinistra europea è coinvolta nella costruzione eh di eventi in rapporto con il G20 eh un G20 che avrà diverse tappe eh lungo tutto il paese eh che noi diciamo intendiamo eh confrontarci con questi momenti istituzionali anche per mettere in piedi un'iniziativa di contro eh narrazione di quello che sono appunto eh diciamo la visione dei grandi della terra eh che insomma è evidente sotto gli occhi di tutti producono ineguaglianza e ingiustizia e malattia e quindi intanto l'augurio è quello di rincontrarci appunto durante le giornate del G20. Il primo appuntamento sarà il 18 di maggio eh in occasione del Health Global Summit è coorganizzato tra la Commissione Europea e il G20. Allora eh non è una più che una domanda è un invito a a partecipare e anche non so avere anche un ruolo un po' uno sguardo diciamo che va anche oltre i confini dell'Europa e e come sinistra europea penso sia importante che eh ci sia anche il nostro punto di vista lì. No veramente è molto importante che perché per noi per la sinistra europea eh sono importantissimi anche i rapporti internazionali. Questo per noi è chiaro. Adesso abbiamo per esempio una delegazione della sinistra europea in Ecuador per ehm osservare le elezioni che non sono andate molto bene però dall'altro lato abbiamo sempre questo questo rapporto internazionale non solo con America Latina però con altri paesi e credo anche questo 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 summit è una cosa da non perdere per far visibile anche la visione della sinistra e noi abbiamo una grande responsabilità non solo per quanto riguarda l'Europa ma eh però noi adesso siamo in una situazione dove è molto chiaro che ehm abbiamo una situazione di una trasformazione veramente eh diciamo eh importantissima per quanto riguarda il modo di produrre eh eccetera e la trasformazione sociale ecologica di cui parliamo eh eh tutto questo credo che adesso eh eh si è messo eh in discussione il nostro modo di produrre per esempio e per questo abbiamo delle grandi questioni delle grandi sfide da affrontare e noi dobbiamo ehm veramente essere attivi per quanto riguarda queste questioni ti ringrazio ringrazio ancora e ringrazio Franco, Rosa e Roberto che mi hanno accompagnato in questo incontro penso utile eh per fare il punto sulla fase attuale eh in Europa e della sinistra in Europa e come detto non mancherà occasione di rincontrarci e quindi è soltanto un arrivederci alla prossima e ancora un grazie a Heinz per aver partecipato. Grazie a tutti voi e alla prossima. Ciao. Ciao alla prossima. Alla prossima. Ciao.